Buongiorno Chi siete? Sono qui per un prestito Cosa volete? Un prestito Si ma quanto? Documenti Chi siete? Sempre io Cosa volete? Sempre un prestito Si ma quanto? Documenti Vabbè ciao Cosa volete? Un'altra banca Documenti Affidati ad una banca che ti ascolta Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci La banca di tutti noi Un'altra banca che ti ascolta Paganda di Credito Anche